Quarto quadro, surastratto, double face, di Cristiana Emanuele Arranghetto. Buona visione. Buona visione. Buona domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevano forte colpa mia. Se questa notte hanno visto mi dicono, no mi taglia gli occhi e l'animo con Jack O'Lock abbracciata di una testa di cazzo, un regista fuori roba tocchi e adesso, una loro come un'altra una droga, e il ruderci crede adesso.